Laboratori di arte digitale, maratone di game design, ma anche dibattiti dedicati ai temi più scottanti dell'attualità, dalla cyber security alle fake news, dalla privacy all'antiterrorismo, è il poliadrico programma della settima edizione di Internet Festival, la manifestazione dedicata alla digitalizzazione della società contemporanea che torna a Pisa dal 5 all'8 ottobre, con tanti eventi un'unica parola chiave, il sentiment, ovvero i modelli culturali e di comportamento che muovono le community digitali. L'argomento è il sentimento, ma l'argomento è la rete, è affrontata in tanti temi come i big data e gli open data, che una volta erano, come dire, nomi neanche conosciuti e oggi sono alla base per una parte importante del nostro sviluppo e della nostra economia, temi come Industria 4.0, che ci disegnerà il futuro non solo dal punto di vista economico, ma anche occupazionale nei prossimi anni. A Internet Festival spazio anche alle aziende più innovative, che saranno protagoniste della scena digitale curata dal CNR di Pisa e da Registro.it, l'anagrafe dei domini internet italiani, che compie 30 anni di attività. Quest'anno festeggiamo i 30 anni dal primo nome addominio conuce.cnr.it e nell'ambito del festival, di questo meraviglioso evento che va a generarsi ora, la settimana prossima, noi avremo il registro che lavorerà per aprire, come farà da apri pista, l'Internet Festival su quello che saranno gli altri festeggiamenti sul trentennale del primo nome addominio. In particolare poi noi l'8 di ottobre apriremo altri altri looks con tutte le aziende che vengono da noi a imparare come usare il web per fare marketing, per essere più presenti e soprattutto per rappresentare la presenza italiana del punto IT nel mondo web. A Internet Festival si terrà anche le premiazioni dell'IT Cup, la gara per start-up che vede tra i finalisti anche Glitch Factory, spin-off dell'Università di Siena che si è fatto notare per Squeeze.me, una cover speciale per tablet dotata di sensori. Squeeze.me è una cover interattiva per tablet dotata di sensori che sono posti in questa parte e poi c'è una parte di elettronica che è posta in questa parte bianca. La parte di elettronica che contiene un Bluetooth si connette quindi con il tablet e noi abbiamo sviluppato l'applicazione Squeeze to Zoom che è un'applicazione per fotocamera. Utilizziamo entrambe le mani perché in questo momento se io schiaccio qui, in questa parte dove ci sono i sensori, posso farle vedere che cambia il livello di pressione che viene esercitato e quindi posso aumentare o diminuire il livello dello zoom to scatto la fotografia. La cultura al tempo di Internet sarà protagonista di incontri e spettacoli tra cui la presentazione del libro Geometria delle passioni di Remo Bodei, il documentario sull'attività di emergency in Afghanistan con Cecilia Strada, due serate condotte da Matteo Bordone e dedicate al rapporto tra arte, musica e matematica che vedranno esibirsi anche Danilo Rea. Presenterà il suo libro al festival anche Tommaso Novi, cantautore pisano all'esordio come autore del romanzo Mi sono scavato la casa che è il ritratto di un nerd del nuovo millennio tra dipendenza e videogame. Il libro, il disco che è già uscito e si chiama Se mi coprirò lo al volo, fanno parte di un oggetto unico che è una storia vera, una cosa che mi è successa vent'anni fa quando ero un po' in difficoltà e finito il liceo, un po' una tragedia, rischiavo di farmi parecchio del male, ho scoperto e mi sono accorto che mi dovevo rinchiudere in casa in una sorta di clausura programmata e organizzata a base di videogames, quindi giochi di ruolo, giochi di guerra, giochi di strategia, una squadra, un gruppo di amici e a sondi livelli passando da un personaggio all'altro ho provato a ricostruirmi un pochino. Ho metaforizzato un po' quello che mi stava succedendo su un nuovo piano metaforico, mi son salvato, son guarito.